Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Sempre a causa del traffico intenso in FIPILI code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. A causa di lavori invece 3 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e 2 km invece in direzione Firenze. Spostiamoci sulla 1 dove a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico in entrambe le direzioni. Cantieri di Firenze da domani 26 maggio fino al 1 giugno per nuovo allaccio alla rete idrica di vieto di transito in Borgo La Croce tra Via della Mattonaia e Piazza Beccaria. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!